Buongiorno, sono Irene Lissandrin di rovigoggi.it. Il 2019 è passato e sono ospite nell'ufficio del sindaco di Rovigo, che ringrazio per l'intervista di fine anno. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti. Allora, il sindaco di Rovigo è Edoardo Gaffè e è il suo primo bilancio da primo cittadino del capoluogo del Polesine. Lo scorso giugno la sua vittoria non era così scontata, anzi il suo nome è quello che ha un po' scombussolato i piani di tutti, sommato al fatto anche che forse il centrodestra ha sbagliato più di quanto i rodigini potessero tollerare. Che cosa si aspettava e cosa ha trovato? Beh, è un bilancio parziale, sono passati sei mesi, normalmente i bilanci si fanno dopo un anno, quindi farlo dopo sei mesi è comunque un bilancio che deve scontare il fatto che durante i primi mesi si pianifica e si comincia a stabilire il lavoro che dovrà essere fatto nel corso dell'intera legislatura. Ho trovato una situazione non facile, è inutile negarlo, in alcuni casi un po' peggiore rispetto a quella che mi aspettavo, però insomma stiamo lavorando attivamente, qualcosina poi magari avremmo modo di dirlo, non siamo riusciti a fare, altre cose hanno necessità di avere tempi un po' più lunghi, però insomma siamo sul pezzo. Si dà un voto, riesci a darselo? Sei, sei perché mi piacerebbe fare le cose un pochino più velocemente di così, anche se devo dire che insomma l'impegno, io personalmente ma anche tutta la squadra di Giunta ce la stiamo mettendo tutta, però di carattere tendo ad essere molto esigente con me stesso. Perfezionista? Perfezionista forse no, perché comunque continuo a pensare che l'ottimo sia nemico dal bene, però esigente con me stesso sì, quindi mi piacerebbe che alcune cose fossero state fatte con un pochino più di velocità, questo purtroppo non sempre è possibile e cercheremo di accelerare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Proprio per parlare di velocità, nello sprint finale della sua campagna elettorale lei parlò di sette deliberi che erano pronte e potevano passare subito in consiglio comunale. Ricordo tra queste quella del patto, del modello di gestione del patrimonio ad uso pubblico, lei portava ad esempio la gestione del parco di Conca di Rame dato all'associazione Ida Galante per replicare quel modello e pensava proprio a quel modello per la gestione del verde per esempio davanti alla rotonda, quindi in piazza 20 settembre. Cos'è successo su questa cosa? Beh, sono successe alcune cose comunque interessanti, siamo quasi addirittura d'arrivo con il nuovo regolamento per la gestione dei beni comuni, se ne sta occupando attivamente l'assessore Erika Alberghini, siamo già arrivati a buon punto, la cosa verrà discussa durante le commissioni già a gennaio, almeno questo è il cronoprogramma che ci siamo dati e a quel punto avremo lo strumento di natura istituzionale che ci consente di cominciare a ragionare in maniera concreta su questi aspetti. Su altre questioni sempre relative a come gestire i beni comuni in ambito ambientale sono stati fatti alcuni passi su una questione che veniva trattata in una delle famose sette proposte di Libera che è la gestione del parco Langer. Su questo è già stato avviato ed è in fase avanzata una interlocuzione con l'agenzia del demanio, è stata fatta un'opera di manutenzione del parco straordinaria, c'erano alcune piante particolarmente pericolose, soprattutto nella zona dell'Iras, è stata fatta una manutenzione in collaborazione con l'agenzia del demanio. 8 olmi, credo, che sono stati sistemati, sono stati messi in sicurezza, stiamo andando avanti con la procedura utilizzando il federalismo demaniale per acquisire a proprietà del comune l'intero o l'intera area, sapete che una parte è già del comune, quella dove ci sono gli orti è già del comune, mentre l'altra parte è di proprietà del demanio. Noi stiamo lavorando attivamente per fare questa cosa, c'è un interesse totale da parte dell'agenzia del demanio con cui stiamo collaborando e quindi insomma siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi le cose le stiamo sistemando. Ok, molto bene. E anche uno sempre di quei sette famosi punti si parlava di mobilità lenta, cioè lei pensava di fare un piano della mobilità lenta assieme alle associazioni che si occupano di questi temi e di alcuni esperti del settore. È successo qualcosa su questo versante? Beh, è successo che ci stiamo dotando degli strumenti che ci consentono di lavorare al piano del traffico che comprenderà anche il piano della mobilità lenta. Abbiamo fatto una ricognizione con Fondazione Cassa di Risparmi e abbiamo scoperto ad esempio che rispetto al deliberato da parte della Fondazione, nell'amministrazione comunale non era riuscita a spendere una somma che supera abbondantemente i 2 milioni di euro, di cifre che erano rimaste sul tappeto. In tanti anni o? In numerosi anni, in numerosi anni. Una parte di queste riguarda anche le piste ciclabili, stiamo lavorando per spendere delle cifre non importanti, siamo nell'ordine dei 150-160 mila euro, su varie progettualità per riuscire ad esempio a collegare tra di loro alcuni pezzi di piste ciclabile in città che in questo momento non si parlano, che è esattamente una delle cose su cui avevamo discusso a suo tempo. Ci sono parti particolari, cioè piste, tratti? Abbiamo una zona un po' delicata alla fine di Viale Faffusinato, abbiamo la gestione della ciclabilità nell'ambito della stazione dei treni, quindi ci sono un po' di progetti. E visto che parliamo di stazione dei treni, c'è in ballo il trasferimento della stazione delle corriere nell'ex scalomerci della stazione dei treni. Ecco, qui la situazione com'è? La situazione è la seguente. Noi non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo legare tra di loro due aspetti che sono distinti ma collegati tra di loro. Il primo è lo spostamento dell'autostazione, il secondo è il bando per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, che ricordo è in deroga da ormai più di un decennio, con il trasporto extraurbano che sovvenziona il trasporto urbano. Quello su cui stiamo lavorando, abbiamo già avviato un tavolo tecnico con l'amministrazione provinciale, che è l'ente che ha il compito di emanare il nuovo bando, per fare un ragionamento complessivo sia per quanto riguarda la sistemazione della stazione dei corriere, sia per quanto riguarda la gestione per i prossimi dieci anni dell'intero trasporto urbano ed extraurbano. Perché abbiamo una serie di temi da smarcare che sono strettamente collegati tra di loro, come dicevo in precedenza. Quindi dobbiamo non solo preoccuparci di dove fisicamente si trovano le corriere o dove ci sono le cosiddette rotture di carico, tra trasporto extraurbano e trasporto urbano, ma dobbiamo anche preoccuparci di che tipologia di traffico vogliamo e quindi tipo di mezzi che vengono utilizzati, trasporto a metano in provincia, trasporto elettrico in città e fare in modo che il trasporto urbano sia notevolmente potenziato rispetto all'attuale. Quindi dobbiamo portare via traffico privato dalla città e sostituirlo con traffico pubblico, elettrico, se possibile. È un progetto ambizioso, quindi? In qualsiasi città ormai questa sta diventando una realtà e questa cosa non può non passare attraverso il nuovo bando per il trasporto urbano e extraurbano. Ripeto, abbiamo già avviato un tavolo con la provincia per fare in modo che il 2020 segni anche la possibilità di emanare il nuovo bando. Le due cose saranno strettamente collegate tra di loro. E quindi quando è che uno riuscirà a scendere o a prendere la corriera davanti alla stazione dei treni? C'è una previsione? Beh, dobbiamo tenere conto del fatto che comunque per costruire una nuova autostazione serviranno dai due ai tre anni perché l'investimento è un investimento importante, è un grosso modo all'ordine di 4 milioni e mezzo di euro e quindi bisognerà comunque trovare una soluzione ponte, che dovrà essere necessariamente una soluzione ponte perché l'area che è destinata comunque all'autostazione è sicuramente l'ex Scalo Merci. Questo è in dubbio, su questo non ci sono margini di trattativa. Però abbiamo bisogno anche di individuare una situazione ponte perché non può rimanere dove è in questo momento. Infatti. Parlando sempre di quella zona, a questo punto parliamo anche di viabilità. Più di un anno che abbiamo, no forse un anno, che abbiamo la viabilità a senso unico su Viale Marconi e via Petrarca. I cittadini si sono lamentati in massa, anche i tassisti, anche il Consiglio Comunale ha avuto delle interrogazioni. Cosa succede? C'è qualche speranza che ritorni come prima la viabilità oppure che cambi o ce la dobbiamo tenere così? No, c'è la speranza che ritorni come prima, però anche su questo io vorrei porre una questione di metodo. Non sono dell'idea di cambiare un pezzo di viabilità alla volta. Questo richiede dei tempi un po' più lunghi rispetto a quello che normalmente uno potrebbe aspettarsi, però ritengo che sia un errore quello di risolvere un pezzettino alla volta, non preoccupandosi di poi come i flussi di traffico si scaricano su altre parti della città. Stiamo cercando di fare una mente locale sul nuovo piano del traffico, che sarà anche un piano collegato alla sosta, che dovrà essere collegato ovviamente anche al trasporto urbano ed esturbano. L'avevo già detto in campagna elettorale, dobbiamo fare un ragionamento di sistema, ma per fare un ragionamento di sistema serve una programmazione accurata, quindi le risposte non potranno mai essere delle risposte immediate, perché la risposta immediata implica necessariamente tralasciare alcuni parti che invece dal mio punto di vista, dal punto di vista di questa amministrazione, sono assolutamente fondamentali. Prendiamoci qualche settimana, qualche mese in più, ma studiamo le cose bene, per evitare poi di doverci mettere le mani fra sei mesi. E in questo settore i lavori come sono? Questo del piano della viabilità? L'assessore Favaretto ha cominciato a ragionarci. Ok, sul versante innovazione invece c'è un vero e proprio assessorato. Pur immaginando i tempi lunghi di realizzazione di tutte le idee messe in campo, diverse cose sono state impostate. Penso alla gestione del personale o alla gestione dati anche in diversi uffici. È anche una piccola rivoluzione che arriverà negli uffici dei lavori pubblici. Ci può raccontare qualcosa? C'è sicuramente un progetto importante di revisione di quella che possiamo chiamare come la macchina comunale. Ci sono tutta una serie di operazioni che stiamo cercando di mettere in atto, dalla mappatura dei processi a una revisione dei sistemi incentivanti, alla necessità di portare in maniera concreta tutto il tema dell'agenda digitale all'interno della pubblica amministrazione, che riguarda sia la modalità con cui i lavoratori del Comune esercitano le proprie funzioni, ma riguardano soprattutto il modo con cui il singolo cittadino può interagire con l'amministrazione comunale. Su questo siamo un po' indietro come amministrazione comunale rispetto ad altri comuni che hanno cominciato a lavorare su questi temi con anni di anticipo rispetto a noi, però il tema della firma digitale, di pago PA, cioè della possibilità di utilizzare un canale di natura digitale per poter fare qualsiasi tipo di pagamento, dalla semplice contravenzione fino al pagamento di cose un pochino più complesse, è ormai una realtà in molti altri comuni. Tra l'altro la cosa interessante è che la Regione del Veneto è una Regione pilota nell'ambito della diffusione delle nuove tecnologie di natura digitale nella relazione fra amministrazione comunale e singolo cittadino. Diciamo che il Comune di Rovigo era rimasto un po' indietro, stiamo cercando velocemente di rimetterci in pari. Oltre a questo devo dire che stiamo cercando anche di costruire un po' di progetti innovativi in città. E' stato ricordato per esempio il progetto di Innovation Lab con cui abbiamo partecipato al bando regionale. Si aspetta per febbraio? Dovrebbe essere per febbraio. Io sono abbastanza confidente sul fatto che ci siano buone probabilità di riuscire a portare a casa il finanziamento. Ovviamente incrociamo le dita, nel senso che fino a quando non c'è una decisione finale da parte della Commissione non possiamo assolutamente dire nulla. Però secondo me è un bel progetto, un progetto tra l'altro che cerca anche di creare un sistema perché abbiamo fatto una cosa in collaborazione con altre amministrazioni comunali limitrofe, quindi con Viladosa e con Adria, in maniera tale da segnalare il fatto che su progetti come questi è possibile collaborare tra amministrazioni, diciamolo pure, anche di segno politico diverso perché quando si tratta di progetti che noi consideriamo interessanti, il colore politico dell'amministrazione è una cosa assolutamente ininfluente perché stiamo parlando di mettere a disposizione dei cittadini una buona amministrazione. Non c'è solo questo, stiamo ragionando insieme all'Accademia dei Concordi per un progetto di rivitalizzazione di alcuni spazi accademici che riguardano anche degli spazi di proprietà comunale su cui fare un ulteriore progetto di investimento in un'ottica di innovazione, quindi innovazione in ambito digitale, ma anche innovazione in termini di spazi fruibili. In questo caso sia sul Palazzo Academico che è di proprietà dell'Accademia, ma sia sul Palazzo Bosi che invece è di proprietà del Comune. Quindi stiamo facendo una serie di cose interessanti. Ricordo anche, cosa non banale, che nell'ambito dell'Innovation Lab non c'è solamente l'ex liceo Celio, ma ci sono anche le palestre digitali nelle frazioni, perché è altra cosa che abbiamo ribadito in molte occasioni durante la campagna elettorale, la città non è solamente il centro storico, ma è anche, anzi in maniera rilevante, le frazioni. Quindi portare servizi e anche portare servizi di natura digitale, perché il digital divide è un problema, è fondamentale, quindi stiamo attivamente lavorando in questa direzione. Ok, lavori pubblici invece. Quella, abbiamo visto tutti, ci sono cantieri di strade, marciapiedi che sono partiti, però le minoranze dicono che questi sono l'effetto a distanza del sindaco Bergamin, quindi decisioni già prese prima o del commissario Izzo. Nei cantieri partiti c'è qualcosa che porta la firma Gaffèo? Allora, qui vorrei spezzare in due il ragionamento. La prima parte è relativa al fatto che trovo un po' stucchevole la polemica in base alla quale tutto quello che stiamo facendo in questo momento è il risultato di decisioni che erano state prese precedentemente. Non esiste una interruzione di gestione amministrativa, è evidente che una nuova amministrazione che subentra da un'amministrazione precedente deve necessariamente garantire la continuità di natura amministrativa. Tra questa c'è anche la gestione di progetti, poi che questi progetti fossero in qualche maniera stati ideati, poi dobbiamo stabilire se bene o male, ma comunque ideati all'interno di una normale gestione della città, ma non fatti, non realizzati, non significa che questa amministrazione dovesse buttare male tutto quello che c'era e smettere di investire sul territorio semplicemente perché questo era il portato di un'amministrazione precedente. È un modo di vedere le cose, secondo me, assolutamente non in linea con quello che deve fare una normale amministrazione quando si trova a dover interagire con i cittadini. Abbiamo fatto delle scelte da questo punto di vista, è stato fatto invece un lavoro importante di priorità dei luoghi su cui intervenire, abbiamo messo in campo delle risorse che poi si sposano con quello che succederà nell'ambito del piano delle opere pubbliche 2020-2022 con delle cose che possono essere attribuite all'amministrazione Gaffeo, finalmente, così facciamo contenti tutti quanti. Dopodiché è evidente che, insomma, delle scelte devono essere fatte. Noi stiamo cercando di lavorare sul centro storico, stiamo cercando di lavorare sulle frazioni. Mi pare che tutto sommato il clima sia abbastanza buono, continuo a registrare un buon clima in città, quindi al di là, insomma, della polemica di natura politica che ci sta, non mi scandalizzo ovviamente per queste cose, mi sembra invece di capire che la città, tutto sommato, sta reagendo abbastanza bene, i cittadini sono persone molto intelligenti, si rendono conto che nessuno ha la bacchetta magica, stiamo cercando di correre ripari, Rovigo ha 415-420 km di strade, intervenire su tutte è praticamente impossibile nel giro di sei mesi, è impossibile anche nel giro di un paio d'anni, però piano piano cominciamo a mettere in piedi una sorta di programmazione delle attività che dovremmo svolgere e la seguiremo cercando di intervenire in maniera efficace. Tra l'altro, tra le, come dire, le eredità dell'amministrazione precedente segnalo il fatto che è stato completamente lasciato andare l'officina pubblica, il cosiddetto SGO, non ci sono gli stradini per esempio, noi invece abbiamo, e questa cosa non viene mai ricordata, neanche dalle opposizioni, ci sono solamente tre persone che lavorano all'interno dell'officina comunale. Abbiamo cominciato a lavorare anche in questa direzione e quindi abbiamo cominciato ad acquistare un po' di materiale per fare in modo che il comune sia in grado di fare dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria in tempi molto rapidi. Non capisco per quale motivo questa cosa non fosse fatta prima, per esempio. Ebbene, un'altra domanda invece. Quindi, nel bilancio 2020, per i marciapiedi e per le strade manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto in termini di denaro viene messo a bilancio? Beh, noi abbiamo un blocco di investimenti per i marciapiedi dell'ordine di 300 mila euro che verranno messi in cantiere già durante la prima parte del 2020. Sulle strade bisogna fare riferimento all'intero piano dei lavori pubblici, triennale. Qui siamo nell'ordine di svariati milioni di euro. Una delle prime cose su cui ci siamo presi l'impegno di lavorare, ad esempio, è un altro dei problemi annosi della città che è via Pizzarda, cioè la zona di via Concilio Vaticano II, che è una zona in cui i cittadini effettivamente hanno dovuto subire per decenni una situazione veramente molto complicata. Questa è una delle nostre priorità, ma ovviamente poi a cascata faremo tutta una serie di interventi. Ricordo, ad esempio, un'altra cosa abbastanza interessante è che le amministrazioni precedenti per ben tre volte erano riuscite a, anzi erano state costrette a rinviare all'anno successivo l'intervento per l'ampliamento del cimitero di Conca di Rama. Sì. Quest'anno, insomma, siamo riusciti a far partire l'iter e quindi credo che il 2020 sarà finalmente l'anno, anzi non credo, ormai è certo che il 2020 sarà l'anno in cui finalmente anche la comunità di Conca di Rama avrà un ampliamento del cimitero. Invece per parlare di un'altra frazione parliamo della rotatoria di Buso, che collega Buso, Cerzano, eccetera, Via dei Mille. Finalmente è stato dato il là perché questo cantiere potesse partire in qualche modo dal momento che dovevano subentrare delle varianti urbanistiche che mancavano. Però quando comincia questo cantiere? Allora, il cantiere comincerà sicuramente in primavera. L'importante era far partire l'iter perché in essenza di questo passaggio c'era la possibilità concreta di perdere il finanziamento della regione. Diciamo che nei mesi precedenti all'insediamento della nostra amministrazione forse si era perso un po' di tempo nel fare questo. Quindi abbiamo dovuto accelerare, abbiamo dovuto avviare una serie di procedure di natura amministrativa e abbiamo dovuto fare anche una serie di investimenti di natura informatica importante. Ricordo, per esempio, tra le altre cose, che la nostra amministrazione, ed è uno dei motivi, apro una parentesi, uno dei motivi per cui siamo da qualcuno accusati di non essere veloci nel fare le cose. Ricordo banalmente che per fare una variante urbanistica occorre che questa venga approvata dalla regione. e abbiamo scoperto che la procedura informatica che aveva a disposizione il Comune di Rovigo non dialogava con quella della regione. Quindi non era tecnicamente possibile inviare i dati per far approvare le varianti urbanistiche. Mancava un investimento da circa 30-40 mila euro. Noi come uno dei primi passi... Venivano puntati a mano? No, però non era proprio... I due sistemi non dialogavano tra di loro. È un problema di cartografia digitale. Quindi abbiamo messo in piedi un progetto con un investimento anche di natura tecnologica da 35-40 mila euro e a spromba tutto siamo riusciti ad adeguare tutta la cartografia digitale in maniera tale da essere in grado di dialogare con la regione. Sono tutte cose che il cittadino ovviamente non vede, giustamente non vede, perché un'amministrazione comunale dovrebbe avere già a propria disposizione strumenti di questo genere. Diciamo che fino a questo momento forse qualcuno se ne era dimenticato. Ok, dopo questa carrellata anche delle sette famosissime delibere, che cosa pensa di questo ritardo? Se lo aspettava? Beh, in parte sì, perché da cittadino ovviamente, poi soprattutto dopo aver fatto una campagna elettorale in cui molte persone hanno avuto modo di segnalare una serie di ritardi, di carenze. è chiaro che ho avuto modo di riscontrare con mano che ci sono alcune parti che vanno in qualche maniera sistemate. Sono convinto che riusciremo a sistemarle in tempi anche abbastanza rapidi. Stiamo attivando un piano di assunzione. in alcune aree stiamo facendo degli investimenti importanti in termini di capitale umano. Stiamo dotando i nostri servizi, le nostre persone di strumenti, ma anche di luoghi di lavoro più consoni. Lo spostamento dei servizi sociali, programmato, lo spostamento della polizia locale, l'adeguamento della dotazione di natura tecnologica, insomma tutta una serie... Lamentale che vanno avanti da un decennio almeno queste. Quindi stiamo lavorando in questa direzione. È chiaro che abbiamo trovato una situazione un po' pesante. Quindi mentre di solito ci si lamenta del fatto che uno trova il buco di bilancio quando entra, io non mi lamento assolutamente di questo. È chiaro che abbiamo un bilancio che in questo momento, ancora nel 2020, sarà in qualche maniera guidato, ingessato da quello che abbiamo trovato. Però non c'è un vero e proprio vincolo di bilancio. Sono mancati investimenti degli anni precedenti, quelli che si fanno sentire di più. C'era venuto il dubbio che ci fosse un poco coordinamento, diciamo, in consiglio comunale. Insomma, c'è stato quell'episodio di Nello Candy, consigliere del PD, in cui si era lamentato con lei nel quale, nella sua lamentela, diceva che era in grado anche di far cadere il sindaco. Adesso l'argomento poco ci importa di quell'occasione, però questa cosa che noi abbiamo catalogato in quell'occasione come cattiva comunicazione tra di voi, magari è vero, c'è un gioco di forza all'interno del Consiglio Comunale che noi non sappiamo e che magari esiste ed è per questo che alcune cose non sono partite subito, perché erano delle cose che sembravano semplici. Non c'è nulla di semplice nell'ambito di un'amministrazione pubblica e soprattutto in un ente locale, però detto questo non so, mi sento di smentire tensioni particolari. È evidente che, almeno parlo per me, sto imparando il mestiere, quindi possono esserci delle occasioni in cui in autentica buona fede il processo di comunicazione può non essere ottimale. Stiamo imparando, stiamo cercando di mettere in piedi tutta una serie di momenti di confronto con la maggioranza. Siamo sicuramente sulla buona strada. Con Nello Candy in particolare c'è stata la possibilità di spiegarci. Siete ritrovati al bar? Ci siamo ritrovati, abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo preso anche un caffè e non c'è assolutamente nessun motivo per infocolare polemiche che non hanno ragione ad esistere. è chiaro che le posizioni possono non sempre essere totalmente coincidenti all'inizio, l'importante comunque è riuscire a spiegare le proprie idee e fare sintesi ed è una cosa su cui effettivamente va fatto un lavoro quotidiano giorno per giorno perché comunque l'interesse è più alto rispetto alle singole posizioni personali, quindi abbiamo bisogno di dare delle risposte ai cittadini e l'amministrazione è qui esattamente per questo. Bene, e quindi quando lei dice ne parlo con i miei, ne parla con il PD, penso il suo referente è Giuseppe Treniello Gradassi che è il segretario provinciale del PD o i suoi sono qualcun altro? i miei significa la coalizione che ha sostenuto la mia candidatura. Ricordo che l'esperienza che abbiamo vissuto a Rovigo è un po' diversa rispetto all'esperienza di altre amministrazioni di centro-sinistra del Veneto per esempio è stata diversa rispetto alla scelta che è stata compiuta a Padova dove la lista civica chiamiamola l'ispirazione di centro-sinistra addirittura al primo turno era in contraposizione rispetto alla lista del PD. qui è successa una cosa completamente diversa e cioè la mia candidatura è emersa in maniera unitaria dalla decisione di una serie di forze poi a questo si è aggiunta anche una lista civica che ha visto nel sottoscritto un proprio rappresentante e quindi a questo punto quando parlo di miei parlo di tre forze che rappresentano un modo di interpretare la politica in città nell'ambito del centro-sinistra quindi sicuramente il PD nella figura dei suoi rappresentanti politici quindi sicuramente il segretario comunale ma anche il segretario provinciale il capogruppo il presidente del consiglio comunale che è un'espressione del PD sicuramente anche il forum dei cittadini che tra l'altro si è costituito da poco in associazione e ha nominato i suoi rappresentanti il presidente il coordinatore e le altre cariche istituzionali associative e poi anche la lista civica per Rovigo perché cresca felice che anche essa si è dotata di un proprio statuto ed è diventata un'associazione e quindi ha le proprie rappresentanze di natura istituzionale quando parlo di miei parlo di di questo di questo insieme di forze ok e della sua giunta è contento gli ha fatto un regalo di Natale agli assessori beh il regalo di Natale ce lo siamo fatti insieme nel senso che abbiamo deciso di di partecipare attivamente al buffet che è stato predisposto per i dipendenti del comune di Rovigo quindi siamo stati noi a fare un regalo a tutti gli altri e non ho fatto regali particolari sono loro che fanno un regalo a me tutti i giorni di questo li ringrazio di cuore perché l'impegno che stanno mettendo tutti indistintamente è totale a servizio della città è un impegno importante è un impegno da 10-12 ore al giorno siamo impegnati su tutti i fronti quindi stiamo cercando di dare il massimo qualche spunto per il cronoprogramma a breve ci assicura che avrà dei contatti con Unipol Biper per risolvere il caso Piscine sì allora sul caso Piscine devo dire che ho già avuto modo di dichiararlo durante i primi giorni del 2020 ho in programma un incontro con i vertici di Biper sarà la prima volta che l'incontro perché sapete che il passaggio di natura societaria è avvenuto tra ottobre e novembre quindi i tempi non erano consoni con una soluzione immediata del caso chiamiamolo caso Baldetti tenendo conto di questo evento che è totalmente esterno alla volontà dell'amministrazione comunale però abbiamo ovviamente riattivato tutti i canali di contatto e spero di riuscire a chiudere la trattativa nei tempi che ci siamo detti che sono? che sono allora l'incontro avverrà nei primi giorni del 2020 quindi io penso che gennaio potrebbe essere il mese in cui siamo in grado di portare una proposta all'attenzione del Consiglio Comunale bene e sempre in Consiglio Comunale il dossier IRAS ci arriva? il dossier IRAS deve necessariamente arrivarci è un dossier anche questo particolarmente complesso particolarmente complesso che attiene non solo agli aspetti di natura patrimoniale economico-finanziaria ma anche alla ridefinizione di tutti i servizi che IRAS o la nuova IRAS dovrà fornire alla comunità rodigina perché nel momento in cui noi risolveremo il problema dal punto di vista patrimoniale dovremo anche attivare una nuova convenzione per i servizi che IRAS dovrà fornire per conto del Comune di Rovigo le due cose devono andare assolutamente in parallelo beh su questa seconda parte va fatto un lavoro altrettanto complesso e delicato rispetto a quello sulla parte patrimoniale perché ovviamente dobbiamo tenere conto delle esigenze di una comunità che sta invecchiando di una comunità che ha bisogno di una serie di servizi per delle disabilità long life sto pensando per esempio al caso delle disabilità legate al Parkinson o altre malattie degenerative di questo genere serve una particolare attenzione per mettere in piedi una proposta che abbia una sua sostenibilità dal punto di vista finanziario di medio e lungo periodo ma che sia in grado di dare risposte sembrava più semplice questa vera? non ho mai pensato che fosse semplice qualcun altro lo pensava che fosse semplice in realtà già in campagna elettorale qualcuno si era permesso di fare delle proposte che poi abbiamo scoperto che non stavano niente ex Maddalena il comune di Rovigo sta aspettando delle risposte dalla presidenza del consiglio dei ministri lei non c'era ma noi sì il primo bando Maddalena quello da 18 milioni di euro era bellissimo perché in un colpo solo sistemava diverse aree della città quindi non solo l'ex Maddalena ed intorni ma anche Palazzo Nagliati piuttosto che l'area dei vigili del fuoco dell'ex caserma dei vigili del fuoco di via Donatogoni oppure il forno l'ex forno che c'è nel quartiere ebraico o anche Piazzale di Vittorio quindi in un colpo solo veramente questa cosa sistemava tutto per poi scoprire immagino che non fosse possibile adesso noi non sappiamo bene cosa sia successo però lei è andato a Roma per discutere un progetto revisionato da 13,5 milioni di euro che prevede l'acquisto dell'ex Maddalena ci può parlare un po' di questa cosa perché a noi sorge a noi a Rovigoggi insomma ne abbiamo parlato sorge il dubbio che tutto fili liscio perché o filerà liscio forse insomma questa è la nostra idea perché ci andrà il tribunale però il tribunale da un po' di anni non è più una questione di cui si deve occupare il comune di Rovigo ma si deve occupare il ministero di grazia e giustizia quindi le chiediamo delucidazioni l'ultima cosa che ha detto è verissima però io farei un passo indietro giusto per chiarire quali sono i termini della questione il progetto da 18 milioni di euro era un progetto che è stato rimodulato nel 2017 quindi già dall'amministrazione Bergamo ed è stato rimodulato sia in termini di dimensione complessiva sia in termini di dimensione economica riducendolo da 18 milioni a 13 milioni e mezzo il perché è legato al fatto che una certa disponibilità da parte di alcuni soggetti era venuta meno e alcuni problemi collegati a una probabilmente non corretta interpretazione di una serie di aspetti di natura contrattuale sull'immobile cardine attorno a cui tutto doveva doveva svolgersi cioè l'ex Maddalena sto parlando al fatto che quell'immobile lì è oggetto di un'ipoteca di natura reale nel progetto originale questa cosa non è stata considerata quindi una volta che si è scoperto questo è stato necessario rimodulare il progetto e il progetto è stato inserito tra i 120 finanziabili già rimodulato ora ok era quello da 13 milioni e mezzo che era stato inserito all'interno della lista dei progetti approvati inserita in Gazzetta Ufficiale ora il tema vero che abbiamo scoperto è che nonostante fosse stato inserito in Gazzetta Ufficiale quel progetto il Comune di Rovigo non ha mai ricevuto una conferma della rimodulazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è il soggetto che gestisce il bando periferico e in assenza di una comunicazione ufficiale di accettazione della rimodulazione non è possibile avviare l'iter per la sistemazione delle aree interessate al progetto quindi quando io sono andato a Roma sono andato a parlare con un referente per cercare di capire dove fosse fermo il problema e mi è stato confermato che il problema viene sbloccato da una delibera da parte di una commissione di valutazione tecnica che è insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri eravamo molto preoccupati perché questa commissione tecnica essendo nominata direttamente dalla Presidente del Consiglio dei Ministri ha seguito le sorti del governo Conte 1 quindi era di fatto stata interrotta abbiamo scoperto che è stata immediatamente rimessa al lavoro e quindi abbiamo avuto conferma del fatto 1 che la commissione sta lavorando 2 che l'accettazione della proposta accettazione o rifiuto perché ovviamente non compete a noi ma compete al nostro interlocutore dire sì o no sarebbe stato oggetto di agenda in una delle riunioni successive non ho avuto una rassicurazione sulla data precisa questo è il motivo per cui fin da subito io ho parlato di settimane non di giorni perché ovviamente non sono in grado di gestire io l'agenda di una commissione tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettivamente siamo in attesa di questa cosa però mi è stato confermato che si trattava di alcune settimane non di mesi o anni e nel momento in cui dovesse arrivare se arriverà una risposta positiva alla rimodulazione saremo pronti per partire sui 13 milioni e mezzo ricordo però che circa 3 milioni e mezzo sulla base del progetto presentato dall'amministrazione comunale riguardo una riqualificazione complessiva del quartiere quindi parlo di maddalene dintorni però insomma stiamo 3 milioni e mezzo su un quartiere sono una cosa importante perché è in grado di ripensare completamente la vita di circa 10.000 persone che insistono in quell'area stiamo parlando di rifacimento di rifacimento delle strade dei marciapiedi dei sottoservizi dei parchi dell'illuminazione insomma è una cosa veramente molto importante quindi comunque a prescindere da qualsiasi altro tipo di considerazione è un progetto che vale la pena portare a casa e quindi il motivo del nostro viaggio parlo di nostro perché sono andato anche insieme al segretario generale era quello di segnalare innanzitutto che questa amministrazione crede in quel progetto e secondo fare in modo che questa cosa arrivi in tempi ceneri sulla destinazione finale ovviamente dato che stavamo parlando di una questione tecnica cioè dell'accettazione della rimodulazione del progetto non abbiamo fatto riferimento alle potenziali destinazioni ricordo che nel progetto originale la destinazione era genericamente una destinazione a uffici pubblici ed è un aspetto su cui avremo la necessità di ragionare in tempi celeri ma approfonditi nel momento in cui avremo la certezza di avere il finanziamento perché altrimenti rischieremo di fare tutta una serie di ragionamenti e poi alla fine se dovessimo avere una risposta negativa avere l'ennesimo progetto nel cassetto per quanto riguarda la destinazione finale sarà oggetto di un dibattito in città chiaramente che dovrà essere guidato che dovrà essere fatto in tempi ragionevoli quindi non un dibattito della durata di lustri ma comunque un dibattito che verrà a città compreso anche il potenziale spostamento del tribunale perché ci sono altre perché il tribunale è un ufficio pubblico il tribunale è sicuramente un ufficio pubblico però bisognerà capire se ci sono altre soluzioni possibili in città e se quella può essere la soluzione ideale oppure no però questa è una decisione che la pubblica amministrazione ha la responsabilità di prendere però ovviamente dopo un dibattito approfondito in città che fino a questo momento non c'è stato perché non c'era il motivo di contendere Ok Dopo questa carrellata di questi sei mesi che voto si è ridato? Continuo a darmi sei continuo a darmi sei sono molto esigente avrei voluto fare ripeto molto di più non è stato in alcuni casi possibile abbiamo avuto un po' di problemi a metterci in movimento non necessariamente legati a una cattiva anzi non certo legati a una cattiva volontà ripeto stiamo lavorando siamo un cantiere Rovigo è un cantiere in questo momento i risultati cominceranno a vedersi molto presto qualcuno si è già visto mi rendo conto che non basta perché le aspettative sono erano sono e continueranno ad essere molto alte beh questa è una cosa che mi fa anche piacere perché significa che in qualche maniera le persone si fidano perché se le persone non si fidassero le aspettative sarebbero molto basse invece continuano ad essere molto alte quindi ringrazio della fiducia che mi e ci è stata data e cercheremo sempre di essere altissimi quindi l'augurio per il 2020 per lei l'amministrazione per i rodigini beh l'augurio del 2020 è di avere ancora parecchi marciapiedi parecchie strade in più fatte di avere un innovation lab con una progettazione finita di avere un finanziamento per il Maddalena portato a casa di avere una soluzione per IRAS per Baldetti già durante la prima metà dell'anno questo dovrebbe consentirci di avere un po' di risorse in più per poter fare anche qualche progetto aggiuntivo in termini di lavori pubblici di potenziamento dei servizi al cittadino soprattutto in un'ottica digitale anche su questo stiamo lavorando molto e abbiamo bisogno di avere anche dei strumenti di comunicazione un pochino più efficaci quindi stiamo lavorando anche ad una ridefinizione dei siti web del comune compreso anche un sito web del teatro sociale del Museo dei Grandi Fiumi che in questo momento praticamente non esistono e un sacco di cose bene grazie grazie al sindaco Edoardo Gaffèo che ci ha ospitato e che è stato esaustivo come sempre Rovigo oggi vi augura buon anno sono Irene Elissandrini e auguri a tutti grazie a tutti